Ah, il Natale, quel magico periodo in cui tutti noi siamo più buoni e tutti ci scambiamo doni per celebrare le nostre amicizie, i nostri legami più belli e... e poi ci sono... queste. Con tutto il cazzo che avrei da fare, studiare per esempio, continuare RS, finire di testare Penumbra, buildare in VGC16, testare Cyber, cose, preparare i regali, comunque odio il Natale. E... e... mi ritrovo a fare queste cose. Molto bene. Akron by WAAA, Hack Corporation, Name Shit Project, di cosa parla dei più grandi coglioni? Applausi per i coglioni. Gioca a cazzo? No. E noto con piacere che questo gioco è stato fatto su Rubino Ita! Evviva! Ciao, coglione! Perché mi hai fatto attendere? Ti trovi nel mondo passato futuro. Io mi chiamo Bitch. Oh, le battute su B... Ahahahah! Dio... Ma per tutti sono il prof nazi skin. Sto ancora a cercare di capire il senso di quel nome? Questo è un meme mo... Ciao, lascio il canale al primo offerente. Aaaaaah! Malgrado questo profondo legame... Non sappiamo tutto sui coglioni. Sono molti segreti che devono ancora essere svelati. Per questo mi dedico alla ricerca sui cazzi altrui. È la mia principale occupazione. Beh, contento te. Raccontami i tuoi cazzi. Ti piace il cazzo o la figa? Facciamo che mi piace la figa... News! Possiamo chiamarci Landon Marco Paolo Lucio. E invece ci chiameremo esattamente così. Che cazzo mi aspettavate? Ti chiami Si, giusto? Ah, cazzo sbagliato. Molto meglio. Si. Perfetto. Allora tu sei Si e stai trasblocando a Shit Town, la mia città natale. È chiaro? Bene, vuoi iniziare a codare? Sicuramente non sei sardo e non sai cosa significa? E' un'altra cosa. Armati di bazzucca e tuffati nel tunnel dove te tendono sogno, avventure e tanta foglia. Ti aspetto più tardi e vieni a trovarmi a Cazzo Seifau. Che cazzo? Fuck shit 666. Bello! 10 su 10 GN. Sento un orgasmo, proviene dalla dietro. Andiamo a sbirciare. Ai cazzo. E a quello lì ovviamente calpesta i vasi e quelli li rimangono intatti. Giustamente. E tu per favore aiuti, nel seno c'è una meme balla. Eh. Blasiken. Sceptile. Fomper. A parte che lo sprite straborda perché non ha tolto il contorno. Ma che cazzo dovrebbe essere sta roba? Da quale incubo è uscita sta roba? Chi l'ha partorita un'idea del genere? Comunque no. Non ha voglia di stare a me. Vabbè, io prendo questo perché... Perché mi viene da piangere. Cosa diavolo, eh? Si, riceve Swampert. Fatti i cazzi tuoi. Si, e lo chiamiamo... Ho paura di andare di là. Che belli questi sprites. Si hanno ancora i nomi originali dei Pokémon perché non puoi usare Yape o altri programmi sulle ROM ITA. Tu sì che sei un vero hacker, cracker. Vedo cose brutte al di là di questi alberi. Meglio allontanarsi. Ma che cazzo entri senza buzzare, eh? Io ragazzi ti faccio portare a roco si freddi e ti incura a sangue con quattro pasticche di Viagra, capito? Stronzo, e che cosa succede alla barra qui? Giusto! Evviva gli errori di mapping! Grotta shit... Grotta shit... Ok, grotta shit... Ah già, non si può rientrare! Cioè, almeno non si può uscire. Perché il creatore è un idiota. Stai attento, stai attento. Eh, sto attento. Che cazzo... C'è un Rai Quaza e poi... All'anima... Ahia... SS... Questi... Riferimenti puramente casuali. Ahia... 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 visto che non avrò mai la voglia di continuare una cosa così di merda base di... base di... cos'è sto coso? credo che il camion abbia più problemi del creatore di questo aborto hai ottenuto Ultra Ball? grazie hai ottenuto punti di domanda? mette punti di domanda in realtà Master Ball ma... santo dio ah già non possiamo uscire perché il creatore è un incapace e non ha ancora capito che bisogna mettere un tile apposta per permettere l'uscita e quindi lasceremo il nostro sì... qui per sempre per fortuna per fortuna fatemi un favore sparatevi